Il Regno del Kebab, Piazzetta Perna 7-8, Via Carducci, Angolo Via Piave, chiuso il martedì. Gentile Ministra, sono una giovane donna velinese che ha subito una mastectomia per asportare un tumore maligno al seno. L'operazione effettuata alla Moscati è riuscita perfettamente grazie alla tempestività dell'intervento e alle notevoli capacità e perizia del chirurgo. Come lei ben sa, l'intervento è estremamente demolitivo, però ringrazio il buon Dio e la mano sapiente di chi ha operato, perché a distanza di un anno godo di buona salute. Mi è stato inserito un espansore provvisorio al posto della ghiandola mammaria asportata, in attesa di procedere a un nuovo intervento per inserire una protesi a silicone. Nonostante la presenza della protesi gonfiabile, notevole la differenza tra un seno e l'altro non operato. Tale situazione genera in me e penso in tutti coloro che versano nelle mie stesse condizioni. Uno stato di disagio psicologico e di menomazione nella mia femminilità. Non avere più il seno è un'esperienza dolorosa e avvilente, non solo per ragioni estetiche, ma perché non si ha più la percezione dell'integrità del proprio corpo. Si vive un senso di perdita a livello affettivo profondo. Si scatenano sentimenti di paura, disperazione e impotenza. D'altra parte il seno è il simbolo della maternità e l'essenza della femminilità. Ben si comprende in questo contesto che la ricostruzione del seno ha un valore immenso per una donna. Purtroppo anche quando avrò effettuato l'intervento per l'inserimento della protesi a silicone, trattandosi di un'operazione ricostruttiva di una singola mammella, la differenza tra i due seni rimarrà evidente e forse addirittura più rilevante. Attualmente in Regione Campania i livelli di assistenza sanitaria non prevedono la possibilità di assicurare l'intervento di simmetrizzazione della mammella controlaterale, per cui chi vuole accedere a una simile operazione deve farlo privatamente con costi evidentemente importanti. Ma non tutti godono di condizioni economiche tali da poter affrontare un intervento a pagamento. Io certamente non potrei. Gentile Ministra, lei ha portato avanti con grande merito tante battaglie di giustizia sociale e di prevenzione sanitaria. Ultima, in ordine di tempo, quella sui vaccini, da donna a donna. A lei che è in grado di comprendere il dramma che vivo io e le persone come me. A lei che conosce l'importanza di sentirsi donna desiderata, oltre che amata. A lei che ha la sensibilità per intuire che l'aver superato la malattia non basta riacquistare la gioia di vivere. A lei chiedo di far su all'ennesima battaglia di civiltà, il nome della donna e dei suoi diritti, troppe volte calpestati. Si faccia promotrice di una proposta di legge tendente a assicurare tutte le donne residenti in qualsiasi regione italiana e che l'abbiano subito, l'asportazione di una delle due mammelle, la ricostruzione plastica spessa del Servizio Sanitario Nazionale, anche dell'altra mammella, al fine di ricostituire la simmetria di forma del seno. Le saranno enormemente grate, le saranno enormemente grate, tante donne troppo spesso, gli onori della cronaca, per maltrattamenti e disparità subiti e troppo poco per aver conseguito nuove conquiste sociali. Grazie.